Tu dicevi molto sentito, in realtà le cose che racconterò non le ha sentite ancora nessuno sulle reti nazionali perché io stesso le ho scoperte leggendo i documenti per scrivere questo libro dopo gli articoli fatti sul mattino. Il federalismo fiscale è già stato attuato per i comuni con regole diaboliche, praticamente invece di dare il livello essenziale a tutti, cioè un minimo da garantire in tutta Italia, si è stabilito che chi aveva poco era giusto che avesse poco. Così come se dicessimo, visto che le donne sono trattate peggio, è giusto trattarle peggio e per cui ci sono comuni come Altamura, 70.000 abitanti, 1.800 bambini, fa bisogno di asili nido zero. Vedo l'amico e collega Michele che sta a Bologna, in Emilia sappiamo che ci sono molti servizi, si stabilisce che è giusto questo divario. Per dare un numero solo, a Reggio Calabria il fabbisogno riconosciuto, cioè il diritto riconosciuto per gli asili nido è 90.000 euro, a Reggio Emilia che è un po' più piccola è 9 milioni di euro, cioè 100 volte di più. E si è arrivati a fare delle cose veramente perverse. Quando si è staccato l'assegno della solidarietà, quel poco di solidarietà che era rimasta, si è deciso di dimezzarlo. Cioè ti spetta 100, ti do la metà, anzi meno della metà, era il 45,8%. La Costituzione dice che deve essere integrale. Quando si è raccontata questa cosa in bicamerale federalismo, l'unico a intervenire è stato Giorgetti, che peraltro è leghista e divarese, ma si è sorpreso, lui per prima era presidente di quella bicamerale, e ha detto queste cose, le ho lette a verbale, posso avere i dati al 100%, cosa sarebbe successo? E lui dice, Giorgetti, i dati probabilmente sarebbero scioccanti, magari ce li fate avere in modo riservato o facciamo una seduta segreta come avviene in commissione antimafia. Cioè noi abbiamo fatto il federalismo per la trasparenza e l'efficienza, quando poi sono arrivati i numeri li abbiamo dovuti secretare. Questo non è il racconto del federalismo fiscale, questa è una pagina nera della Repubblica Italiana. È un libro veramente da leggere, questo di Marco Esposito. Allora, oggi è a Londra.